Qui con Irene Amato dopo una partita che le Fucsia hanno un po' perso nel terzo periodo, nonostante questo comunque la cornice Piazzale Michelangelo, ecco che impressioni ti ha fatto? Sì, diciamo che l'atmosfera è bellissima, quindi vabbè, nonostante la perdita di stasera, però l'atmosfera e l'ambiente è stupendo, quindi siamo contenti di aver già dato questa partita in questo modo, in questa atmosfera e tutto questo pubblico. Chi è venuto a vederci? Ecco, potrebbe essere una preparazione questa partita a Firenze in vista dell'inverno? Ci sono stati alcuni contatti con Società Fiorentine, chissà che l'anno prossimo tu venga a giocare a Firenze? Allora, diciamo ancora è tutto in forze, quindi aspetto a dire cose certe, novità, però molto probabilmente sì, quindi rimarrò in ambiente fiorentino, molto probabilmente sì. Grazie. 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 Grazie.